Ciao, mi chiamo Ludovica Proietti e provengo da Roma. Sono una degli Early Stage Researcher del progetto ARC, finanziato dalla Mercury Actions della Commissione Europea. Rappresento il dottorando associato all'Early Stage Researcher Project numero 7 e lavoro a Vienna, presso il laboratorio di Florian Grebbian, situato all'Università di Medicina Veterinaria. Il mio progetto è focalizzato sulla leucemia mieloide acuta. Si conoscono un gran numero di mutazioni legate a questo tipo di tumore del sangue. Il nostro laboratorio, in particolare, studia una di queste mutazioni attraverso l'impiego di tecniche di ingegneria genetica e di gene editing. Il nostro proposito è quello di individuare i punti deboli di questo sistema al fine di applicare queste nuove conoscenze nello sviluppo di nuove terapie antituborali.